www.feyyaz.tv Io credo siano i social network che ci hanno dato la botta finale. Tutta questa connessione non ci fa bene. Tutti si fanno i cazzi dell'altro. Continua a scambiarsi informazioni ma a nessuno che gli interessa veramente. Quindi quel sentimento, quella sensazione di libertà che in realtà poi ti limite semplicemente a stare tutto il giorno a dire cose che a nessuno importa. E non fai niente di pratico. Secondo me quella è una grande piaga da qui a una decina d'anni. Quello che potevano fare l'hanno fatto tramite i social network. I danni che potevano fare l'hanno fatti. E non ci si difende? Non li usi. Ti limiti a quello che fai nella vita, cioè limitati alla vita reale. Io pure lo usavo per esempio, poi mi sono reso conto che tanti ragazzi sono... Non userei tanto oppressi ma sono condizionati tanto dai social. Cioè... Tipo Instagram. Soprattutto Instagram. Soprattutto Instagram. Soprattutto Instagram. Si dice di cui ti spiega, no? Chi ci vuole? Tu sono sincero. Questo è matto di riparata. Perché è matto? Ma sai che vuol dire che uno si sveglia la mattina, la prima cosa che vede Instagram? Uno si dorme la sera e la prima cosa che vede è Facebook. Vede storie dirette. E se un campione di boxe fa una diretta su Instagram non te lo vedi? Dai! Quindi sei preoccupato se ti tolgono i social? Ma che tolgono? Quelli li impazziscono poi. Allora, qual è il tuo sogno e il futuro? Allora, il mio sogno ho sempre sognato, da quando sono piccolo, sempre ho sognato di far stare bene a mia madre. Perché mia madre, da quando è piccola, ha sempre pensato a me, anche ai miei fratelli. Mi ha fatto sia da mamma, da papà, da tutto. E infatti tutte le cose che non ha fatto mia madre, da tipo fa, proprio fa. Visto che tutti questi anni mi ha fatto un sacco di cose. Il mio sogno è di farlo stare bene, in tutti i modi.